Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandice e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna e sul ramo d'allacciamento con la 11 verso Pisa. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti anche tra Valdarno e Firenze Sud. Passiamo sulla 11 anche qui a causa del traffico intenso, code a tratti tra Sesto Fiorentino e Prato Est in direzione Pisa. E sempre in direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e Montecatini Terme. Città di Firenze prosegue la sostituzione della rete idrica in via Masaccio dal lunedì 2 dicembre fino al 18 gennaio e il cantiere si sposta nel tratto via Nardi via La Farina con restringimenti di carreggiata in via Masaccio e via Nardi. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!